Parto io? Ma sono serio io eh? Ciak si gira, vai! Buona la prima! Cioè vabbè! Ma perché? Vai dai brazzo, fammi seri dai, vai! Quale ti ho fatto? Qual è la partita più emozionante che hai disputato? Questa è battente! Dai, facci una io, dai! Gira la pagina! La tua parata più bella e difficile? Aspetta, sta a me! A me sono finita la pagina! L'ho già detto questa? Mi fai la stessa domanda? Cioè, iniziato subito a giocare in porta? Iniziato subito a giocare in porta! No, no, no! Quando iniziate... No, tocca a me! Che rispondo solo io? Amo ne faccio vostro famo, no? Quali sono la... In vista di Juve Milan... In vista DJ Milan... Che ricordi hai della tua esperienza rossonera? Allora... Le domande sono finite, ve lo dico... A parte che abbiamo prezzato la scella... Sì, però diciamo che l'aria di condizionato funziona! Allora... Ok...